Siamo con Gaia Brunetto, una grande protagonista della stagione giovanile del Viatlon. Partiamo proprio da qui, hai vinto medaglie agli italiani, hai vinto, comunque ti sei ben comportata anche in Coppa Italia nel corso della stagione, sei soddisfatta per come sono andate le cose? Allora, sì, sono abbastanza soddisfatta. Nella prima parte della stagione ho avuto dei momenti di crisi, però durante il mio periodo della stagione ho cercato di analizzare il problema e di affrontarlo al meglio per riuscire a tenere degli ottimi risultati. Di fatto è complicato affrontare le atleti di Alta Tecine, la Pazzo, la Gentale, la sorella di Isolo Davide, la Magdalena, quanto è dura? È stata abbastanza dura quest'anno, però cercherò di rifarmi il prossimo anno. A proposito, il prossimo anno tu salerai, quindi di categoria, quali sono un po' le tue aspettative, anche i timori, perché comunque cambia tanto. Ma sicuramente sto lavorando al meglio per preparare questa nuova stagione, spero di riuscire ad andare in alto, mi sono posta degli obiettivi che spero di raggiungere e poi insieme.